Musica Cari telespettatori bentornati al nostro appuntamento con Via Roma 39 dunque subito un saluto, un bentornato al sindaco di Mantua Nicola Sodano Grazie, un saluto a lei e un saluto a tutti i telespettatori Allora signor sindaco noi abbiamo annunciato attraverso il nostro telegiornale che è quella di questa sera una puntata davvero importante che interessa da vicino tutti perché parliamo di un argomento che insomma non piace molto parliamo di tasse ma ci sono delle novità importanti poi torniamo a parlare anche un po' di conti del comune commenteremo anche insieme i primi proprio provvedimenti le prime intenzioni espresse dal governo ecco parlando proprio sul fronte in poste la prima cosa che ci viene da chiedere proprio per fare chiarezza l'Imu il premier Letta ha annunciato che non ci sarà la rata di giugno del L'Imu che per la prima casa per il comune di Mantua significavano circa 2 milioni di euro 3 milioni di euro tutta L'Imu per la prima casa ecco quindi a questo punto vi mancano circa 3 milioni se non ci sarà nemmeno la seconda rata si dice che il governo ha già pensato sta già pensando ad un rimborso per i comuni basterà e quindi fino a questo momento è stato detto che i mantovani non si troveranno un rincaro delle tasse sarà così? Allora innanzitutto colgo l'occasione per ribadire quanto già abbiamo detto l'abbiamo detto anche alle rappresentanze sindacali l'abbiamo detto anche attraverso i media confermo che l'amministrazione comunale quest'anno nel proprio bilancio non aumenterà il peso fiscale quindi non ci sarà nessun aumento di tasse di nessun tipo perché c'è un contesto socio-economico per il quale queste tasse questo eventuale aumento non sarebbe sopportabile dalle famiglie dei mantovani sul fronte dell'Imu lei sa che io condivido il fatto che soprattutto l'Imu prima casa perché questo è l'oggetto del contendere l'Imu prima casa non le seconde, le terze, le quarte eccetera l'Imu prima casa è ritenuta da me e dalla mia amministrazione una tassa ingiusta proprio per questo noi abbiamo applicato un'Imu al 3 per 1000 e siamo l'unico capoluogo d'Italia ad aver applicato un'aliquota così bassa e quindi mi ritrovo sulle linee di quanto detto da letta sulla base di quanto concordato dall'attuale maggioranza di governo sul fatto che l'Imu prima casa debba essere tolta o rimodulata adesso qui c'è un dibattito io penso e spero che l'Imu prima casa come da impegno preso da letta venga eliminata nel caso del comune di Mantua è chiaro che per il comune di Mantua come per tutti i comuni d'Italia dovrà esserci una copertura a livello nazionale per quello che sono i soldi che non andranno ai comuni e se ci sarà questa restituzione noi saremo avvantaggiati dal fatto che abbiamo fatto un'Imu al 3 per 1000 perché siccome l'Imu proposto dal governo era il 4 per 1000 ci sarebbe ritornato ci ritornerebbe in più quell'1 per 1000 che appunto già noi non abbiamo applicato in prima battuta che viene quantificato in circa un milione e mezzo di euro certo quindi allora di fatto vi trovereste con un milione e mezzo di euro in più rispetto a quanto un milione e mezzo di euro in più perché quel milione e mezzo che non abbiamo introitato dalla tassazione dei cittadini applicando al 3 per 1000 non al 4 per 1000 è stato il comune che se ne è fatto carico per ritornarlo allo Stato perché i soldi dell'Imu parzialmente vanno nelle casse del comune e parzialmente vanno nelle casse dello Stato ecco ma allora come mai signor Sindaco dovrebbero mancare all'appello circa 400 mila euro ieri sera nel nostro telegiornale abbiamo detto che i numeri sono in corso di definizione però i macronumeri sono noi nel bilancio preventivo del 2012 avevamo entrate per 59 milioni e mezzo circa 60 milioni poi il consuntivo delle entrate è stato di 55 milioni quindi 4 milioni e mezzo in meno dovuto al fatto che durante l'anno c'è stata una continua sforbiciata dei soldi che dal livello nazionale o regionale passavano al comune oggi noi abbiamo un preventivo 2013 che stiamo costruendo la cui riflessione va portata a tempi brevissimi dove contiamo di avere spese per 56 milioni e mezzo che è sempre meno dei 59 milioni e mezzo dello scorso anno quindi già 3 milioni in meno rispetto alla situazione magra magra che avevamo previsto per il 2012 quindi 55-56 e mezzo c'è questa differenza per il momento di un milione e mezzo che vedremo di far quadrare o con le disposizioni di legge che arriveranno a seguito dell'Imu appunto nel qual caso saremo coperti saremo coperti per 56 milioni e mezzo quindi un taglio di 3 milioni tenendo presente che già il preventivo 2012 era un preventivo che tagliava rispetto al 2011 che tagliava rispetto al 2010 ecco quindi siamo sempre conti che quadrano ma che quadrano con un bilancio magro ecco tanto è vero che è stata annunciata una possibile un probabile aumento dei servizi per chi non è residente ma guardi noi qui stiamo facendo delle riflessioni nel senso che il ragionamento è molto semplice punto numero uno lei mi chiede ma aumenteranno le tasse io le rispondo no le tasse del comune non saranno aumentate dopo lei mi dice ma diminuiranno i servizi io le dico no i servizi del comune vogliamo mantenerli tali per quantità e per quantità punto numero 3 dove prendiamo i soldi però perché se non aumentiamo le tasse teniamo ecco allora un ragionamento che noi stiamo facendo è che il comune di Mantova finora si è sobbarcato e quindi sono stati pagati con le tasse dei cittadini di Mantova una quantità di servizi per 100 mila che vengono offerti ai famosi 100 mila abitanti del ecco noi non siamo più in grado certo di svolgere non è questione di un ragionamento che non fa una grinza non è questione di persecuzione eccetera cioè non siamo più in grado se uno usufruisce dei servizi di un comune paga le tasse di un altro io sono il sindaco di Mantova e quindi devo chi abita a Mantova voglio tutelare questi cittadini non sono più in grado di quindi un ragionamento che stiamo facendo ma siamo solo all'inizio di questo ragionamento non c'è nessuna deliberazione in prospettiva io ritengo che un cittadino che abita a Mantova deve poter parcheggiare magari anche quasi gratuitamente chi viene da fuori il costo del parcheggio non può essere sopportato da chi è di Manto insomma vale la stessa cosa per gli altri servizi finora l'abbiamo su qualsiasi cosa sul campo culturale cioè lei pensi non so al festa della letteratura ecco naturalmente è un qualche cosa che promuove la città di Mantova ma per farle un esempio ovviamente è chiaro che è un qualche cosa che promuove la città di Mantova i contributi sono dati al festival della letteratura come qualsiasi evento culturale di livello importante con i soldi delle tasse dei mantovani e poi viene beneficiato questo da un'area ben più vasta e noi non siamo più in grado perché se lo Stato mi dà meno soldi se la Regione mi dà meno soldi se le tasse non le voglio aumentare e i servizi li voglio mantenere non abbiamo mica la bacchetta magica è una cosa matematica e peraltro penso sia anche una questione di correttezza insomma almeno dal mio punto di vista poi molto probabilmente c'è chi non la pensa così anche perché i servizi ci sono anche negli altri questo sarà un elemento che dovrà negli altri comuni dovrà aiutarci a può usufruire dei servizi dei propri comuni questo elemento dovrà accelerare il processo di comune unico per la Grande Manto spero più che altro viene fuori in tante situazioni che è una strada obbligata quindi comunque ne abbiamo già parlato più volte in passato signor Sindaco il tempo sta andando avanti velocemente e c'è una cosa che mi premeva approfondire perché l'abbiamo accennata nel telegiornale ma vorrei capire con cosa si può fare qualche settimana fa lei tornando da Roma ha dato una notizia che praticamente ha incontrato il vicepresidente della regione Mantovani a Roma insieme all'assessore regionale alle finanze quindi da Roma è arrivata una notizia che però è tutta milanese possiamo dire di una possibilità molto probabilmente il comune di Mantua potrà derogare al patto verticale il patto di stabilità verticale quindi a livello regionale e sembra per circa 2 milioni di euro è così? Allora poi abbiamo avuto un incontro con l'assessore regionale anche a Milano la regione Lombardia ha la possibilità di avere a disposizione un proprio fondo da destinare ai comuni per la copertura dell'eventuale sforamento del patto di stabilità del singolo comune e quindi ci sarà una distribuzione di questi fondi che sarà individuata a livello regionale noi come comune abbiamo appunto richiesto questa possibilità già nell'anno scorso abbiamo avuto una copertura di questo tipo che ci ha permesso di iniziare i lavori a Palazzo del Podestà e quindi anche per quest'anno noi abbiamo chiesto la possibilità utilizzando i nostri soldi quindi senza utilizzare i soldi di Roma senza utilizzare i soldi di Milano ma utilizzando i soldi che abbiamo in cassa di poter usufruire di almeno un paio di milioni di euro per realizzare alcune opere che sono importanti che io voglio a tutti i costi realizzare cioè la riapertura del Palazzo della Ragione perché adesso c'è questa cosa assurda abbiamo i lavori in corso al Palazzo del Podestà a seguito di un discorso molto lungo e abbiamo chiuso a fianco il Palazzo della Ragione a seguito del terremoto abbiamo chiuso anche la Torre dell'Orologio che abbiamo appena riaperto ai turisti con soldi che abbiamo ma che non possiamo utilizzare questa è una cosa e l'altra cosa poter avere dei soldi a disposizione sempre con la copertura del patto verticale della Regione Lombardia per ultimare la Teresiana insomma ecco quindi queste saranno le due opere le due opere principali le due opere più importanti io ci farei la firma se si riuscisse a fare anche solo queste due qui ecco poi effettivamente ne abbiamo tante altre ecco state già pensando avete individuato anche ad altre possibili opere noi abbiamo un elenco infinito perché lei lei forse sa già ma lo ricordiamo ai telespettatori noi abbiamo quantificato danni al patrimonio comunale quindi solo di proprietà del comune a seguito del terremoto fra opere grandi e piccole per circa 13 milioni di euro di questi 13 milioni di euro abbiamo mentre io parlo ricevuto materialmente 500 mila euro dall'autorità quindi siamo scoperti per 12 milioni e mezzo chiedo una copertura per mi rendo conto che su questi 12 milioni e mezzo magari altri 2 o 3 milioni di tante piccole opere alle scuole eccetera magari non sono strategiche però abbiamo almeno questi 2 milioni per il palazzo della ragione la torre dell'orologio e la teresiana come opere fondamentali per rilanciare l'aspetto culturale della città certo e anche turistico ovviamente bene noi signor sindaco ci sospendiamo come al solito per qualche istante ci rivediamo qui tra poco e torniamo a parlare di imposte però su un altro fronte ci rivediamo qui tra pochissimo bene eccoci di nuovo insieme allora signor sindaco io tornerei a parlare di imposte abbiamo parlato dell'IMU tra l'altro lei ha già detto che non ci sarà aumento della pressione fiscale quindi anche l'IRPEF a Mantua si presume che rimarrà uguale non ci saranno aumenti ecco per quanto riguarda l'IMU appunto lei l'ha già accennato è stato uno dei primi provvedimenti una delle prime intenzioni proprio annunciate dal nuovo premier Enrico Letta provvedimenti intenzioni annunciati ce ne sono tanti ecco qual è secondo lei il suo giudizio fino a questo momento di quanto proposto dal governo per quanto riguarda il rapporto con i comuni ovviamente ma guardi il governo Letta ha un programma molto ambizioso con punti molto concreti e i cittadini hanno bisogno di ricevere dei segnali concreti cioè non solo parole ma anche fatti l'IMU sarebbe una bellissima cosa teniamo presente però che c'è in tutto il resto d'Europa anche l'IMU sulla prima casa quindi io ritengo che noi dobbiamo copiare dall'Europa le cose belle non necessariamente anche le cose brutte però insomma una riflessione d'obbligo nel senso che credo che a tutti faccia piacere non pagare l'IMU ovviamente l'Italia però ecco l'IMU prima casa c'è dappertutto ieri sera a Ballarò ho scoperto che anche la Turchia ha un'IMU prima casa molto molto ferre ma loro hanno un gravame fiscale complessivamente sopportabile da noi è insopportabile bisogna togliere qualche cosa l'IMU prima casa l'IMU prima casa fa riferimento a un valore che per noi italiani quello della casa è insomma è un valore eticamente molto importante da preservare l'IMU è un primo segnale concreto se appunto Letta riesce a mantenere la tinta e riesce a toglierla perché la gente ha bisogno di toccare con mano che il governo nazionale riesce a fare delle cose l'altra cosa è l'eliminazione delle province anche su questo è stato molto netto detto che vanno provate le province vanno eliminate tutte io sono stato in prima fila insieme agli altri sindaci insieme al presidente Pastacci per difendere il mantenimento della provincia di Manto nell'ambito di quella pessima riforma che prevedeva l'eliminazione e la perdita della provincia di Manto e il mantenimento di altre ecco alla fine quella legge è naufragata grazie a Berlusconi Berlusconi ha tolto la spina la fiducia al governo Monte quindi è naufragata anche quell'ipotesi lì oggi c'è Letta che ripropone con forza questa proposta di eliminazione delle province e vanno eliminate le province io lo dico come sulla scorta della mia esperienza di sindaco ecco perché secondo me sono enti in un tipo ma anche sulla scorta della mia esperienza di consigliere provinciale sa che ho fatto per tre legislature il consigliere provinciale sono stato anche vicepresidente del consiglio provinciale oggi è veramente per usare un termine marxista una sovrastruttura la provincia perché il comune ha come riferimento la regione e il livello nazionale in mezzo io ho una quantità enorme di enti intermedi io ho i consorzi l'ASL l'ARPA i parchi le associazioni culturali per esempio le regge dei Gonzaga i distretti sanitari i distretti per le biblioteche i consorzi di bonifica e penso di averne dimenticato qualcuno senza altro anche perché sono tantissimi quindi c'è una quantità enorme di enti intermedi quindi la provincia noi dobbiamo ma secondo lei vale la pena più tenere magari questi enti intermedi e comunque sacrificare la provincia o sacrifichiamo la provincia però anche questi enti intermedi devono iniziare a pensare il nostro Stato ha bisogno di una riforma integrale io spero che un giorno a scrivere queste riforme siano non degli studiosi o dei tecnici ma siano anche delle persone che come me non che voglio essere io delle persone che sul campo hanno sperimentato cos'è la pubblica amministrazione quindi avremmo tante cose da dire e da insegnare oggi bisogna snellirla questa macchina perché è una macchina che ha un costo per tutto il personale un costo per le strutture un costo per la burocrazia quindi è veramente alla fine non volendo io ho usato su facebook un termine che è stato ripreso dai media locali dicendo le province sono diventati enti inutili dannosi e deleteri confermo questi temi perché lo diventano involontariamente e le deleghe di cui si occupa la provincia ma le deleghe senta la delega principale che la gente tocca con mano è la gestione delle strade le province sono anche senza soldi le strade provinciali sono piene di buche come le strade dei comuni quindi insomma tanto vale che male per male poi ci sono anche però altre deleghe che ad esempio le scuole superiori con l'edilizia ma vanno ci sono e secondo lei dovrebbero andare è chiaro che questo è il primo passo e poi il secondo passo è fare in modo che i comuni si aggreghino fra di loro perché le deleghe delle province passeranno o alla regione o nel caso di Manto ai 70 comuni e non può più esserci che ci sia questa polverizzazione di piccoli comuni certo quindi devono esserci in moto una volta eliminate le province i territori devono essere stimolati con un'altra legge ma se il Parlamento non elimina le province non ci si porrà mai il problema dell'aggregazione fra i comuni quindi c'è un problema dei comuni piccoli che si aggregano fra di loro per essere delle entità oppure dei territori omogenei tipo la grande Mantova dove anche se sono comuni abbastanza grandi per essere competitivi in un territorio nazionale per spendere di meno per ottimizzare le spese per essere il centro e il punto di riferimento sì ma per fare anche delle politiche con dei fondi a disposizione ecco è chiaro che poi questi grandi comuni nel caso di un comune grande come la grande Mantova non è che quelli di un comune periferico saranno di serie B andrà strutturato come con la presenza di circoscrizioni come c'erano una volta come ci sono nelle grandi città tutte cose che non abbiamo a Mantova perché con 49 mila abitanti cosa vuole che facciamo ce la farà secondo lei tra l'altro molto strano che viene fuori da letta PD quando due anni fa era stato il PD praticamente a bocciare la prima proposta di legge proprio sulla cancellazione della provincia ma guardi oggi il governo non è né un governo di centro-destra come lei ben sa né di centro-sinistra anche se c'è un premio di centro-sinistra è un governo di unità nazionale di pacificazione è un governo che è presente con questa formulazione in tanti stati d'Europa e noi abbiamo ormai un sistema elettorale che vede un centro-destra incapace di poter avere un consenso tale da poter governare a livello nazionale lo stesso dicasi per il centro-sinistra poi c'è quest'area oggi grillina o comunque del non voto che non è funzionale a nessun tipo di collaborazione seria e quindi benvenga io penso che questo governo non solo è il presente io penso che possa essere se rimangono queste tendenze elettorali il futuro per la nostra Italia al di là dei 18 mesi quindi che si è dato l'ETA insomma per portare a casa i primi obiettivi al di là dei 18 mesi perché se alla fine di questi 18 mesi il bilancio sarà fallimentare chiaramente questa esperienza finisce e ci saranno dei punti di domanda molto significativi per il sistema Italia ma se dopo questi 18 mesi ci saranno dei risultati positivi perché non continuare speriamo che nel frattempo comunque rifacciano la legge elettorale sì l'importante che facciano 18 mesi ci ritroveremo nella stessa situazione l'importante è che facciano in fretta certo un'ultimissima domanda l'ETA ha proposto anche il superamento del sistema bicamerale in qualche modo lei è d'accordo? ma guardi una seconda camera solo dedicata alle autonomie? ma anche questo va nell'ottica della semplificazione noi oggi con due camere abbiamo un sistema che porta magari delle io ho seguito anche come sindaco delle proposte che sono state avanzate come ANCI che sono approdate in un determinato modo alla camera ma alla fine di un percorso alla camera e poi di un altro percorso al senato ne sono uscite in tutt'altro modo senza centrare l'obiettivo quindi non funziona questo meccanismo certo signor sindaco il nostro tempo è scaduto abbiamo affrontato tantissimi argomenti tutti di grande interesse credo che abbiamo fatto anche un po' di luce su quello che sarà il sistema fiscale la pressione fiscale del comune di Mantua io mi fermo qui saluto i nostri telespettatori gli do l'appuntamento tra sette giorni i saluti finali li lasciamo fare al sindaco sodano un abbraccio a tutti i telespettatori arrivederci a tutti i nostri